va bene buongiorno a tutti oggi vedremo direi per l'ultima volta un esercizio completo sulla ricorsione ci dedicheremo esclusivamente a quello poi magari verso la fine del corso vedremo ancora qualche esercizietto ricorsivo magari svolgendo qualche simulazione d'esame però oggi è veramente l'ultima volta in cui ci concentriamo esclusivamente sulla sulla ricorsione poi dopo pasqua inizieremo l'altro argomento grosso del corso che sono i graffi quindi la ricorsione di solito la utilizziamo nel secondo punto dell'esame probabilmente il professor corno vi ha già spiegato un po le regole mentre no ok vabbè l'esame è diviso in due parti la prima parte vale di solito 21 punti ed è strutturata molto del tipo passo non passo nel senso che se l'esame noi facciamo girare il programma se il programma funziona e dagli output che ci aspettiamo che ricevete anche sul testo dell'esame per per controllarlo allora è 21 più la correzione del secondo punto che viene dopo per ovviamente se la prima parte non funziona il secondo punto non viene neanche corretto e quindi secondo punto di può essere o un secondo punto ricorsivo quindi con un esercizio ricorsivo oppure vedremo anche dopo pasqua le simulazioni ad eventi quindi o simulazione neoricorsivo e sia l'esercizio ricorsivo che l'eventuale simulazione verranno fatte sopra di un grafo un grafo che verrà costruito nel nel primo punto il primo punto è appunto di solito la costruzione di un di un grafo e i grafi li inizieremo dopo pasqua va bene quindi quale esercizio di oggi l'esercizio dirò di oggi è la risoluzione del gioco radzol penso che tutti sappiate cosa sia c'è qualcuno che non sa cosa sia radzol era un gioco abbastanza in voga un po di tempo fa non so se lo è ancora comunque per chi eventualmente non sapesse di cosa si tratta ne ho aperto uno qua online di solito si gioca sul telefono ma fa lo stesso in radzol c'è una matrice di lettere anche qui sul telefono di solito è 4x4 noi la risolveremo 4x4 qui è un po più grande ma non importa e l'obiettivo del gioco è quello di trovare quante più parole di senso compiuto si possono formare in questa in questa matrice le parole formate da lettere adiacenti quindi ad esempio qua sono sempre stato scarso ma ad esempio mio comunque vedete si possono fare questi percorsi sulla matrice di lettere adiacenti per trovare parole di senso compiuto ad esempio qua c'è luci eccetera eccetera ovviamente per ogni parola che troviamo riceviamo dei punti e vince chi trova chi trova più parole ci sono alcune regole di base che dobbiamo poi anche tenere in considerazione sul nostro sul nostro esercizio vabbè la regola base è che le lettere appunto devono essere adiacenti per formare parole di senso compiuto possiamo andare in alto in basso destra sinistra in diagonale l'importante è che non passiamo più volte sulla stessa lettera cioè una lettera una volta che l'ho presa rimane presa e non si può più riutilizzare ok queste sono le regole base del gioco noi non vogliamo tanto giocare a razzle vogliamo invece fare un programma ricorsivo che permetta di risolvere razzle cioè trovare tutte le parole che sono comprese in una determinata matrice in modo tale che noi possiamo barare e vincere perché riusciamo a estrapolare tutte le parole ok quindi questo è il nostro obiettivo e lo facciamo naturalmente tramite un programma ricorsivo allora c'è un progetto base che vi ho già linkato questa volta il progetto base contiene veramente tanta roba ma perché altrimenti non non riusciremo a terminare l'esercizio diamo un'occhiattina veloce innanzitutto c'è un database lo trovate nella cartella no voti nobel scusate nella cartella database del progetto base però immagino l'abbiate già utilizzato per gli anagrammi se non sbaglio e il database del dizionario ve lo confermate che l'avete già usato ok quindi dovreste già averlo importato nel vostro mysq e maria db ovviamente il database così come per gli anagrammi ci serve per controllare se una parola è effettivamente di senso compiuto oppure no poi andiamo a vedere un attimo magari come prima cosa l'interfaccia grafica quindi lancio il main no probabilmente il mio mysq è ancora stoppato esatto perfetto ok vedete l'interfaccia grafica anche c'è già una matrice 4x4 come dicevamo se facciamo col tasto reset possiamo iniziare una nuova partita il tasto reset mi crea questa matrice di lettere casuali se lo ripremo lui rigenera le lettere queste lettere cambiano ovviamente vediamo che abbiamo anche un campo di testo per provare una parola quindi io digito una parola scrivo il tasto prova e lui dovrebbe dirmi se questa parola c'è o non c'è ma ripeto non è tanto per giocare a razzol vedremo che ci servirà per risolvere l'esercizio secondo l'approccio che sceglieremo quindi il saper dire se una parola è presente oppure no sarà il passo base del nostro algoritmo ricorsivo il cui scopo ultimo è di risolvere tutto quindi noi saremo interessati a questo bottone risolvi tutto che dovrà stamparci sotto nell'area di testo tutte le parole presenti nella nella matrice andiamo avanti nel package db c'è la solita classe db connect dove vi ricordo di cambiare la vostra password se è il caso e poi c'è un dao semplicissimo già fatto con un unico metodo che ci ritorna tutte le parole presenti nel dizionario così poi noi possiamo controllarle il modello allora vediamo un attimo che come è codificato questo questo gioco abbiamo innanzitutto una board che ci modella la matrice la matrice del gioco da che cosa è formata questa board da una mappa che è la matrice vera e propria e la mappa ha queste due caratteristiche come indice ha delle pose pose è una classe l'andiamo a vedere a breve fatta anche specificatamente per questo esercizio che ci identifica una posizione nella matrice riga 0 colonna 0 questa è una posizione riga 2 colonna 1 un'altra posizione ok come valori è vero avremmo potuto avere delle stringhe base perché ogni posizione è associata a un carattere qui c'è qualcosa in più ci sono queste string property forse le avete viste proprio di sfuggita o per conto vostro sulle slide del pattern model view controller le introduciamo velocissimamente non credo le andremo a riusarle in ogni caso che cos'è una string property? è una classe che wrappa una stringa ok include una stringa qual è il beneficio? queste string property tramite un binding si possono associare a degli elementi dell'interfaccia grafica in questo caso ogni string property fatemi rilanciare l'interfaccia grafica allora vedete che ogni casella della matrice è in realtà un bottone lo vedremo tra poco nel controller attraverso quella matrice quella mappa noi facciamo il binding di ogni bottone con la sua relativa string property che è un po' di più di una stringa nel senso che ci permette di non dover fare ogni volta la set text io quando faccio reset vedete che le lettere cambiano avrei dovuto per ogni bottone andare a fare una set text della lettera nuova in realtà con una string property sottostante ogni volta che da codice andiamo a modificare questa string property in automatico il bottone riflette questo cambiamento quindi c'è questo collegamento tra la struttura dati sottostante e il bottone il testo visualizzato dall'interfaccia grafica semplicemente ci semplifica un po' un po' la vita quindi modifico l'interfaccia grafica scusate la struttura dati sottostante in automatico l'interfaccia grafica riflette il cambiamento senza doverla modificare manualmente quindi anche qui rientravo nel pattern model view controller perché c'è proprio un disaccoppiamento in cui l'interfaccia grafica non dipende dalla struttura dati sottostante e un po' se vogliamo vederla in modo più preciso un passaggio diretto dal modello alla vista senza dover passare dal controllore il controllore abbiamo visto nel pattern faceva da passacarte tra il modello e la vista prendeva dati dal modello e le rimpostava sulla vista qui c'è un passaggio diretto più automatico tra il modello e la vista ok vabbè la classe board ci offre diverse cose nel costruttore ovviamente si ricrea una board da zero quindi si ricreano le posizioni con riga e colonna e si associa una nuova string property ad ogni posizione poi abbiamo qualche metodo di supporto ad esempio il get sell value property data una posizione P ci ritorna una string property quindi la string property associata alla specifica posizione che gli passiamo come attributo ci serve la string property della posizione a colonna 2 riga 1 la possiamo recuperare get positions ci restituisce tutte le posizioni salvate nella board il reset che cosa fa il reset? scorre le posizioni che ci sono nella matrice tira a caso una lettera e la associa alla string property di quella posizione lì quindi questo set qui ok di fatto va anche a modificare l'interfaccia grafica la riga sopra invece è la riga in cui si tira a caso la lettera questo è un altro metodo che ci servirà get adiacenze data una posizione della matrice get adiacenze ci ritorna tutte le posizioni adiacenti e basta vediamo un attimo POS classe semplicissima una riga e una colonna due interi che ci identificano la posizione nella nella board il modello ha già qualcosina principalmente metodi di supporto il reset che funziona già nel costruttore si crea la nuova board e va bene e direi che basta poi dobbiamo completarlo con il nostro codice nel controllore vediamo che abbiamo questa mappa qui allora la mappa nel modello era la vera e propria matrice questa mappa qui nel controllore ci serve per avere questa corrispondenza tra i bottoni vi ricordo che ogni casella è un bottone e la loro posizione quindi anche qui la chiave le chiavi sono delle posizioni i valori sono invece dei bottoni dei button quindi i widget fxml che utilizziamo e queste sono le lettere le caselle della board e poi vedete che appunto questi bottoni li abbiamo qua uno a uno è stato un po' noioso farlo ma è già fatto quindi abbiamo 4x4 bottoni ok vabbè poi la solita area di testo eccetera il bottone del reset funziona già l'abbiamo già visto questo è il bottone per provare una singola parola vediamo che c'è già il controllo dell'input e ovviamente dobbiamo fare il resto che ci serve e poi c'è anche il bottone quello risolvi tutto che è quello che ci interessa di più ok domande sulla struttura del progetto base poi vedremo come usare i vari metodi va bene partiamo allora vi faccio subito una domanda vediamo se è vero sono di nuovo le otto e mezza ma se siamo entrati un po' nell'ottica qualcuno viene in mente come potremmo risolvere questo esercizio in modo ricorsivo sì allora il vostro compagno dice creando tutti gli anagrammi possibili e poi facendo una content immagino scorrendo tutte le parole del dizionario e vedendo se ci sono ok però tutti gli anagrammi di quante lettere perché quando abbiamo risolto gli anagrammi noi avevamo le lettere di partenza no? sapevamo quante erano qui è vero ne abbiamo 4x4 però le parole possono essere anche più corte giusto? quindi dovremmo fare tutti i possibili anagrammi di tutte le possibili lunghezze non so se è la strada giusta alternative? il fatto di partire dal dizionario sì sono d'accordo e faremo proprio così qualcuno ha altre idee allora partiamo dall'approccio forse più efficiente che però non vedremo ne vedremo un altro un po' più stupido che però data la dimensione del problema che è molto piccola 4x4 ci porta a una soluzione in tempi ragionevoli comunque un approccio potrebbe essere questo calcolare tutti i possibili percorsi che si possono formare sulla sulla matrice Razzol e man mano che costruisco questi percorsi se mi salta fuori una parola di senso compiuto me la salvo ad esempio vabbè qua c'è un K non mi piace tanto vediamo se riusciamo a fare una matrice un po' furba ok ad esempio partiamo dalla lettera C calcoliamoci tutti i possibili percorsi sulla matrice che possano partire da questa lettera C e mano a mano ad ogni passo che faccio mi tengo traccia della soluzione parziale che sto costruendo e se per caso incontro una parola di senso compiuto me la salvo ad esempio partiamo dalla C c'è qualche parola nel dizionario che sia esattamente C probabilmente no anche perché un'altra regola di Razzol mi sono dimenticato di dirlo prima è che le parole siano di almeno ovviamente due lettere ok quindi no va bene quindi non mi salvo niente però mi chiedo anche c'è qualche parola nel dizionario che inizia con C beh direi di sì allora continuiamo vado avanti vado ad esempio sulla B ok c'è qualche parola che sia esattamente C B direi di no non me la salvo c'è qualche parola che inizia per C B forse no non continuo faccio backtracking torno indietro vado giù c'è qualche parola che sia esattamente C A forse no ma c'è qualche parola che inizia con C A sì allora vale la pena continuare e vado avanti ad esempio eh qua è difficile perché non ci sono parole furbe ma supponiamo poi a un certo punto di arrivare a CAO c'è qualche parola che sia esattamente CAO supponiamo di sì me la salvo c'è qualche parola che inizi per CAO se sì vado avanti se no mi stoppo e via dicendo calcolo tutti i possibili percorsi e mano a mano mi salvo le parole furbe che trovo evito di continuare se ho delle lettere che non hanno senso nel mio dizionario questo potrebbe essere un primo approccio ah tra l'altro eh fatichiamo a trovare delle parole qui perché forse le matrici sono generate in un modo non molto furbo perché come probabilmente saprete eh ogni lettera ha una certa probabilità di apparire in una in una parola nella lingua italiana qui probabilmente le lettere ad esempio la C ha molta più probabilità di una Y qui probabilmente tutte vengono generate con la stessa probabilità e quindi poi è difficile trovare delle parole volessimo migliorare un po' il gioco dovremmo anche generare le matrici in un modo un po' più furbo comunque questo era il primo approccio possibile ve ne viene in mente un altro quello più stupidino che faremo al posto di calcolarli proprio tutti i percorsi noi cosa potremmo fare noi già sappiamo quali sono le parole possibili che possono esserci nella matrice quelle quelle che ci permettono di di avere dei punti e sono quelle nel dizionario se noi scomponiamo il problema in due parti una parte iterativa dove come diceva il vostro compagno scorriamo tutte le parole presenti nel dizionario e poi se per ogni parola siamo in grado di dire c'è o non c'è beh noi abbiamo risolto il gioco no? prendiamo tutte le parole una per una andiamo a vedere questa c'è nella matrice sì ok me la metto da parte passiamo alla seconda questa c'è no andiamo avanti eccetera eccetera scorriamo tutte le possibilità e vediamo se sono presenti oppure no dov'è qui la ricorsività nel capire se una parola è presente oppure no ok e come facciamo a capire più o meno con lo stesso approccio di prima dei percorsi partiamo carattere per carattere andiamo a vedere se riusciamo attraverso un percorso a costruire la parola che stiamo cercando ad esempio sto cercando la parola e di nuovo qua non ne trovo nessuna qualcuno vede una parola furba noi a non non è vero ok supponiamo di cercare la parola non e va bene partiamo di qua diciamo andiamo verso la r magari quindi mettiamo la n poi proviamo a mettere la r vediamo che non va bene torniamo indietro togliendola proviamo a mettere giù mettiamo la o ok no va bene andiamo avanti andiamo con la g non va bene torniamo indietro andiamo giù non trovata ok la non c'è me la metto da parte e provo quella parola successiva quindi tramite questo approccio che ovviamente forse è un po' meno efficiente dell'altro perché andiamo a testare veramente tutte le parole del dizionario anche parole che sappiamo già che non ci sono però ci permette di raggiungere una soluzione in tempi in tempi ragionevoli è sicuramente la più facile da intuire e da fare se poi siete interessati potete provare a fare anche l'altra versione in autonomia ok è chiaro? allora proviamo a farci il nostro solito file di testo in cui ragioniamo un attimo sulla soluzione ok gli input del problema cerchiamo di seguire sempre più o meno lo stesso la stessa struttura allora qual è il primo input del nostro problema è sicuramente la stringa la parola da riconoscere chiamiamola la parola ok quindi c'è un primo passo iterativo fuori dal processo ricorsivo che ci scorre tutte le parole e per ogni parola vogliamo andare a vedere se è presente o non presente nella nella matrice poi come input avremo sicuramente il contenuto della della board la nostra matrice di lettere che ci crea il metodo reset e poi qual è un altro input che possiamo avere ad esempio se cerco la parola meh vabbè se cerco la parola c'è ok ha senso partire da qui ha senso partire da qui cioè qual è un altro input che posso sapere a priori se c'è o non c'è la prima lettera ok e qual è eventualmente la sua posizione è inutile partire con il processo ricorsivo da qui perché la parola c'è non partirà mai da lì lo sappiamo già ok ovviamente lo possiamo anche fare però faremo delle cose inutili quindi un modo per migliorare il nostro approccio è quello di prima di far partire il processo ricorsivo capiamo se c'è un punto furbo da cui farlo partire questo punto furbo è la posizione della prima lettera se c'è se non c'è neanche la prima lettera è inutile che la cerco ok quindi posizione della prima lettera ok qual è la soluzione parziale soluzione parziale che cos'è una soluzione parziale nel nostro problema sì sarà sicuramente una stringa ma che cosa rappresenta una parola parte la parte della parola che ho già riconosciuto giusto quindi se sto andando avanti la mia parziale in un determinato punto corrisponderà alla parte di parola che ho già riconosciuto se sono lì vuol dire che la sto trovando e quindi magari siamo a metà parola e parziale contiene la metà della parola che ho già riconosciuto quindi la parte della parola che ho già riconosciuto eventualmente possiamo anche tenerci traccia delle posizioni sulla board questo potrebbe potrebbe essere utile ad esempio per illuminare la parola nella matrice è vero qui non stiamo giocando a noi interessa solo risolvere tutto però potrebbe anche essere utile riuscire ad illuminare questa determinata parola sull'interfaccia grafica come facciamo sapendo le posizioni delle lettere già riconosciute quindi l'elenco delle posizioni delle lettere quindi queste sono due cose che rientrano nella soluzione parziale che cos'è una va bene una soluzione totale mi sembra chiaro è la parola riconosciuta per intero e di nuovo eventualmente l'elenco delle sue posizioni sulla board quindi questa è la soluzione totale il livello della riporsione che cosa rappresenta qui il livello ad ogni passo aggiungo un carattere che ho riconosciuto se riesco andare avanti e quindi il livello sarà il numero di caratteri riconosciuti giusto o la size di parziale condizioni di terminazione quando è che mi fermo ok quindi quando il livello è uguale uguale alla size o alla lunghezza della parola da riconoscere ok se arrivo lì ovviamente mi fermo perché io potrei anche andare avanti continuando il mio percorso ma se ho già trovato la parola esco dalla ricorsione e provo con la parola successiva quindi se viene trovata parola stoppo la ricorsione e parliamo un attimo dell'avvio della ricorsione a che livello parto secondo voi 0 ovviamente no perché no l'abbiamo detto prima un trucchetto per migliorare un po' le cose potrebbe essere quello di già trovare manualmente diciamo così la prima lettera ok quindi se io so che la mia parola inizia con la lettera c e trovo la c sulla mia board quella c già la inserisco in parziale perché l'ho già trovata e da lì farò partire il mio processo ricorsivo quindi il mio processo ricorsivo partirà da livello 1 ok quindi parto dalla posizione della prima lettera se c'è ovviamente vabbè le strutture dati l'ultimo punto che ci servono parziale abbiamo detto che è una stringa abbiamo il livello che è un intero il solito e poi forse una lista list di pose che è sempre una parziale il percorso ok percorso delle posizioni quindi c'è un mapping tra questa lista e la mia stringa parziale domande dubbi ok allora possiamo partire a risolvere fatemi sì sì allora il vostro compagno ripeto anche per la videoregistrazione il vostro compagno chiede il fatto di trovare la prima lettera se è presente o no nella nella matrice non potremmo metterla anche come una condizione di terminazione quindi se non trovo la lettera ovviamente non vado avanti in realtà non è tanto una condizione di terminazione del processo ricorsivo perché se non trovo la lettera il processo ricorsivo non parte neanche ok quindi non rientrerà nel nel metodo ricorsivo perché quel metodo lì non sarà neanche invocato se questa lettera non c'è è una condizione di terminazione più in generale nel senso che non parte neanche però non è propriamente non rientrerà nel metodo ricorsivo ok ok allora fatemi chiudere un po' di cose ok potremmo pensare di definirci una classe dove mettiamo i nostri metodi ricorsivi potremmo anche mettere questi metodi nel modello indifferente ma supponiamo di avere una classe sempre nel package model che chiamiamo ricerca ok quindi sono creato questa classe dove andrò a mettere i miei metodi ricorsivi allora abbiamo detto il nostro approccio abbastanza sempliciotto ma che funziona sarà diviso in due parti dove la parte fondamentale l'elemento base sarà il riuscire a dire se una parola è presente oppure no nella mia matrice quindi devo avere un metodo che mi ricorsivo che data una parola mi dica se è presente oppure no nella matrice e va bene quindi sarà un metodo pubblico ora ragioniamo un attimo sul valore di ritorno che chiamo trova parola che cosa riceve beh sicuramente la parola da ricercare e poi dovremo visto che siamo fuori dal modello dovremmo ricevere anche la board la matrice quindi cerco quella parola nella mia board che cosa ritorno? beh potrei ritornare un booleano ok se fossimo interessati solo al metodo trova tutti in questo caso mi basterebbe sapere sì o no in realtà se vogliamo fare le cose un po' più carine vediamo un po' se riesco a farlo partire sì noi potremmo anche provare questo punto qui scrivendo una parola cliccando su prova e illuminandola eventualmente sulla matrice proprio come funziona nel gioco di Razzle se vogliamo fare così ci serve come abbiamo detto prima un riferimento alle posizioni sulla board della parola per poterla illuminare e quindi piuttosto che tornare un semplice booleano c'è non c'è potrei pensare di tornare una lista di posizioni se la parola c'è ti ritorna una lista di posizioni di quella parola se non c'è ti ritornerò nullo ad esempio e il chiamante verificando quel parametro saprà dire se c'è o non c'è importiamo lista e va bene questo è il metodo quello che non è ancora quello ricorsivo vero e proprio come abbiamo visto le altre volte è quello che sistema la ricorsione e poi la lancia attraverso un altro metodo che sarà quello veramente ricorsivo e come facciamo a sistemare la ricorsione in questo caso abbiamo detto facciamo partire la ricorsione solo se troviamo la prima lettera e questo è proprio il punto dove fare questa ricerca va bene come faccio a vedere se c'è la prima lettera o no dovrò scorrere tutta la mia board e per ogni posizione andare a vedere se coincide con la prima lettera no quindi for pose p in board la mia board punto get positions un metodo che c'era già nel progetto base l'abbiamo visto prima ci dà tutte le posizioni della della board quindi per ogni posizione a partire dalla prima andando avanti di questa board dobbiamo capire se la lettera in pose è uguale uguale alla prima lettera di parola e come facciamo beh sicuramente ci sarà una if allora da una parte avremmo avremo la lettera della cella ok e come facciamo a recuperarla di nuovo tramite dei metodi che già il progetto ci metteva a disposizione in particolare board la nostra matrice l'abbiamo visto anche prima get sell value property questo metodo dato data una posizione p ci restituisce la value property associata quindi il valore nella mappa dato il valore visto che è una string property non è ancora una stringa dobbiamo fare ancora un punto get quindi per passare da una property da una string property alla stringa quindi l'elemento di base dobbiamo ancora fare un punto get e questo ci dà la stringa associata a quella posizione che sappiamo sarà un carattere dall'altro lato invece avremo dell'uguale avremo la prima lettera della parola come faccio a recuperarmi un carattere da una stringa char et ok char et a zero posizione zero la prima lettera adesso qual è il problema da questa parte abbiamo un char char con la c minuscola da questa parte abbiamo una stringa ok non possiamo confrontare mele con patate e quindi dobbiamo o trasformare questo in stringa o trasformare questo in char in realtà noi sappiamo che nella nostra board in ogni posizione abbiamo un solo carattere quindi posso fare un char et anche di qua a posizione zero quindi abbiamo carattere di qua e carattere di là essendo dei char posso usare l'uguale uguale ma solo perché sono dei char quindi dei caratteri singoli un tipo di base come i numeri metto solo questa parentesi sopra e va bene allora se troviamo questa cosa qui allora posso far partire la ricorsione e quindi qui dobbiamo dobbiamo impostare il metodo veramente ricorsivo quindi avremo un metodo cerca pubblico a cui passeremo che cosa beh sicuramente la parola da trovare giusto anche la board dovremmo passargliela perché lui non la conosce poi avremo vabbè il livello ok e poi la nostra soluzione parziale quella che costruiamo mano a mano giusto e che cosa sarà parziale abbiamo detto sì sarà una stringa quella che costruisco mano a mano e sarà anche una lista di posizioni avevamo queste due queste due cose da tenere traccia in realtà forse possiamo anche portarcele dietro entrambe e va bene in realtà però forse ci basta la lista di posizioni il percorso perché noi tanto la parola la conosciamo già e potremmo tenerci traccia solo solo delle posizioni che poi è quello che effettivamente torneremo ritorneremo al chiamante quindi secondo me può valer la pena di parziale modellarla semplicemente con una lista di pose e chiamiamola magari percorso visto che sarà un percorso per il momento definiamola come come void poi vedremo che si può si può migliorare anche questo aspetto allora qui facciamo partire questa ricorsione facendo che cosa creandoci la nostra parziale ogni volta me la creo qua così la sovrascrivo list di pose uguale percorso parziale chiamiamola parziale uguale uguale new boh array list va bene importiamo array list ok poi abbiamo detto la prima lettera l'abbiamo già trovata e quindi la possiamo già inserire in parziale parziale punto add inseriamo la posizione nella board tanto anche qui se mai ci servirà la lettera noi dalla posizione possiamo facilmente risalire a questa lettera basta chiederla alla board quindi abbiamo trovato la prima lettera e poi facciamo partire la nostra cerca a cui passiamo parola il nostro parziale il percorso il livello che non sarà zero ma sarà già uno perché abbiamo già aggiunto la prima lettera e poi abbiamo ancora board devo ah sì ho sbagliato era una lista di pose ok quando questa cerca finirà dovremmo ritornare il nostro percorso quindi parziale che sarà stato riempito da questo da questo metodo quindi a questo metodo passiamo un parziale che contiene la prima lettera ok se questo metodo ricorsivo riesce a mettere anche le altre lettere quindi a trovare la parola noi la ritorneremo allora qui però c'è un problema noi avevamo detto che il nostro approccio era quello di dire se troviamo la parola ritorniamo la lista di posizioni se non la troviamo ritorniamo la lista nulla in realtà noi qui potremmo avere il caso in cui troviamo la prima lettera la mettiamo nel percorso poi però non troviamo la parola completa in questo caso ritorneremmo una parziale sporca nel senso che magari avrebbe la prima lettera ma non tutto il resto e poi non sappiamo più dire se questa parola l'abbiamo trovata oppure no perché parziale non è nulla allora un'idea potrebbe essere facciamo ritornare un booleano a questo cerca e se questo cerca mi ritorna vero quindi if cerca ritornerò il mio percorso che sono sicuro essere arrivato al fondo altrimenti se questo cerca ritorna falso o se non entro mai in questa if qua perché magari non c'è neanche la prima lettera ritornerò nullo ok allora se non ci sono domande proviamo a impostare il nostro metodo veramente ricorsivo c'è una domanda il vostro compagno dice non potremmo ogni volta controllare intendi se c'è già anche la seconda lettera tra le adiacenti sì questo verrà fatto diciamo così implicitamente nel processo ricorsivo nel senso che come vedremo data una lettera prenderemo le sue adiacenti ok e andremo a inserirla in parziale continuando il nostro percorso solo se ovviamente quella lettera coincide quindi sarà fatto diciamo così implicitamente dal processo ricorsivo ovviamente se quella lettera non coincide non esploriamo quella strada ci fermiamo perché sappiamo che è una strada non promettente che non ci porterà alla soluzione ok allora partiamo dal caso terminale abbiamo detto ci fermiamo riapriamo riapriamo un attimo ci fermiamo se il livello è uguale alla lunghezza della parola da riconoscere quindi se queste due cose coincidono vuol dire che abbiamo trovato la soluzione quindi if livello uguale uguale a parola punto size no length non mi ricordo mai se questo succede abbiamo trovato la parola return true non continuiamo più e ritorniamo che ok abbiamo trovato la parola l'abbiamo già costruita quindi non ritorniamo il percorso perché il percorso è stato costruito mano a mano ce lo hanno passato vuoto anzi non vuoto con una lettera e noi mano a mano l'abbiamo riempito quindi il nostro chiamante ce l'ha già percorso ritorniamo semplicemente vero finito se invece non siamo ancora giunti alla fine allora vale la pena continuare a vedere se riusciamo a completare la parola che ci è stata data come faccio come dicevo il vostro compagno prendiamo l'ultima lettera che abbiamo inserito quindi la lettera che ci era venuta dal giro precedente ci prendiamo tutte le lettere adiacenti quelle su cui possiamo andare come regola del gioco e vediamo se corrisponde alla lettera successiva della parola se corrisponde la aggiungiamo e andiamo avanti se non corrisponde no non la aggiungiamo quindi la prima cosa da fare è recuperarci l'ultima lettera l'ultima posizione diciamo così stiamo ragionando su un percorso l'ultima posizione che abbiamo inserito il giro precedente pause ultima allora la nostra parziale è un percorso una lista di posizioni come facciamo a prendere l'ultima posizione inserita percorso come faccio a prenderla devo prendere l'ultima quindi farò un accesso posizionale giusto quindi una get di che cosa data data una lista come faccio a prendere l'ultimo elemento di questa lista size meno uno dubbi su questo lo farete n mila volte quindi si get last se c'è un metodo get last si non mi ricordo no non c'è forse o ti confondi con un'altra struttura dati o un altro linguaggio di programmazione probabile perché anche io mi confondo sempre ok abbiamo l'ultima posizione valida inserita come detto proviamo a prendere le adiacenti qui è molto semplice perché come abbiamo visto all'inizio c'è già un metodo implementato che ci permette di recuperare le adiacenti le adiacenti saranno una lista di posizioni che prendiamo direttamente dalla board board punto get adiacenze a cui passiamo la nostra lettera la nostra posizione scusate faccio sempre confusione tra le tre posizioni comunque sono collegate quindi gli passiamo l'ultima posizione valida inserita il giro precedente e ci prendiamo le adiacenti e va bene adesso controlliamo il valore diciamo così le lettere di queste adiacenti e proviamo ad andare avanti se troviamo una lettera furba quindi le scorro tutte for pos boh chiamiamola a in adiacenti e qui abbiamo il nostro controllo su una lettera che è simile a quello che abbiamo già fatto prima quindi da un lato avremo la lettera a quella posizione adiacente e quindi la riprendo dalla mia board quindi board punto get sell value property posizione a la adiacente e devo di nuovo fare punto get punto char at di 0 quindi mi prendo il suo carattere e dall'altro lato avremo la lettera che stiamo ricercando qual è la lettera che stiamo ricercando sarà sicuramente in parola no la mia parola che sto che sto cercando appunto ma qual è la lettera di interesse in questo caso perfetto char at livello è chiaro questo supponiamo di essere al primo giro della ricorsione no allora ho già inserito la prima lettera fuori come abbiamo visto prima e quindi la posizione della prima lettera era la posizione 0 poi faccio partire la ricorsione la lettera che mi interessa è la seconda e infatti il livello è 1 mentre gli indici partono da 0 e quindi parola punto char at di 1 vuol dire la seconda lettera quella che sto cercando adesso in questo caso di nuovo posso usare l'uguale uguale se questo capita vuol dire che tra le adiacenti dell'ultima lettera che ho che avevo inserito ho trovato la lettera che mi serve per andare avanti e quindi posso andare avanti non basta però manca qualcosa esatto dobbiamo anche controllare di non averla già usata perché da regola del gioco di razzo non posso ripassare un'altra volta su una lettera su una posizione che ho già utilizzato come faccio quindi una semplice contents no quindi la uso se non c'è se non c'è ancora quindi if not percorso punto contains a ecco mi ha fatto casino scusate and il controllo sulla lettera quindi entrerò in questa if solo se quella posizione è nuova per me e allora se sono qui posso continuare il mio percorso facendo facendo andare avanti la ricorsione e qui allora faccio un percorso punto ad della mia posizione a quindi la aggiungo faccio andare avanti la ricorsione quindi cerca parola poi abbiamo il nostro percorso che abbiamo appena modificato livello più uno giusto e board faccio andare avanti ma non so a priori se poi quel percorso ci permetterà di arrivare al fondo e quindi potrei anche dover tornare indietro e va bene lo faccio callback tracking che si fa remove allora qui la differenza no aiuto scusate qui la differenza salta agli occhi rispetto all'altra volta ve l'ho già anticipata la volta scorsa la volta scorsa nell'esercizio di voti nobile avevamo dei set dove sapevamo che ogni elemento era contenuto una sola volta e quindi sapendo l'elemento che volevamo togliere potevamo anche toglierlo facendo una remove passandogli direttamente l'oggetto qui non è proprio così abbiamo una lista non un set dobbiamo togliere l'ultimo inserito e quindi rimuoviamo di nuovo con accesso posizionale quindi una remove di percorso punto size meno uno giusto quello che sono andato a inserire qui lo tolgo per esplorare eventualmente altri altri percorsi se finisco il for ok senza mai passare di qua return false vuol dire non l'ho trovata possiamo anche aggiungere ancora un miglioramento un'uscita rapida è inutile che faccio backtracking se trovo la parola ok supponiamo sto ricercando pippo sono arrivato all'ultima lettera la o ok inserisco la o d'accordo è inutile che poi tolga la o e vada verso un altro percorso perché l'ho già trovata la parola e quindi posso anche dire che se le mie funzioni ricorsive mi ritorneranno vero esco subito senza fare backtracking supponiamo la mia appunto ho messo la o di pippo l'ultima o che mi serve richiamando questa funzione ricorsiva ricadrò sicuramente qui siete d'accordo allora mi ritorna vero questa mi ritorna vero e bo ritorno vero anche a tutte le chiamanti e stoppo lì non vado più indietro cercando un altro percorso perché la parola l'ho trovata quindi chiamiamola un'uscita rapida dalla ricorsione allora c'è qualche errore da qualche parte che io non vedo però qua qua riga 30 no eccola qua grazie allora adesso proviamo a sfruttare questi questi metodi ricordiamo che adesso abbiamo risolto il passo fondamentale solo quello di dire se una parola c'è oppure no allora nel modello possiamo avere un metodo che ci richiami questo questo trova parola giusto facciamo da passacarte list di pose trova parola riceviamo la parola probabilmente dall'esterno e la bordo invece la conosciamo già perché siamo nel modello e semplicemente facciamo da da passacarte richiamando il metodo ricorsivo e nella classe ricerca quindi dobbiamo avere un riferimento a questa classe ce lo creiamo al volo ricerca ricerca new ricerca e poi richiamiamo con una return ricerca punto trova parola a cui passiamo la parola e la board che tanto è un dis punto board perché ce l'abbiamo nel modello adesso dal controllore ok qui possiamo ricercare questa parola per provare se funziona vorrei anche provare a illuminare i bottoni illuminare l'interfaccia grafica per vedere se quando troviamo la parola per vederla graficamente sulla matrice come possiamo fare questo possiamo agire sulla proprietà di ogni bottone in java effects la proprietà di default button se un button ha questa proprietà settata come vera si illumina se invece è settata come falsa rimane come un bottone classico ok quindi io potrei a priori mettere tutti questi bottoni con questa proprietà a falso e lo sono già in questo momento e mettere questa proprietà vero nelle posizioni della parola che ho trovato quindi data questa parola che prendo in input dall'area di testo in questo caso mi recupero le sue posizioni eventualmente dal modello uguale this punto model punto trova parola parola ok abbiamo detto se se la parola viene trovata riceviamo le posizioni altrimenti riceviamo nullo e quindi controllo che posizioni sia diverso da nullo se questo è il caso vuol dire che la parola c'è e quindi posso andare ad illuminare i bottoni corrispondenti qui nel controller abbiamo visto di sfuggita prima c'è anche una mappa che ci mette in relazione le posizioni con i bottoni corrispondenti ok e quindi io posso recuperarmi il bottone di una posizione innanzitutto scorriamo queste posizioni for pose p in posizioni posso recuperarmi il bottone a posizione p da questa mappa che si chiama me lo sono già scordato letters quindi dico letters punto get a posizione p questa get mi restituisce il bottone e io posso dire set default button set default button a true e questo settarlo come bottone di default gli fa cambiare colore vediamo se è vero clicco reset lui mi genera una matrice e proviamo con la parola la ok la illumina se provo con la parola sa ok cosa abbiamo dimenticato di fare ogni volta ripulire questi default button perché altrimenti rimangono impostati quindi ogni volta che clicco il bottone pulisco l'interfaccia grafica rimettendo tutti i bottoni a non default quindi for come fare si scorriamo tutta la mappa dei nostri bottoni post p in letters punto keyset per ogni posizione ci recuperiamo il bottone e lo risettiamo quindi letters punto get a posizione p punto set default button a false quindi qui pulisco l'interfaccia grafica vediamo un po' reset cerchiamo mi e va bene cerchiamo fo e va bene vi faccio notare che qui qualunque combinazione di lettere anche non di senso compiuto ovviamente funziona perché noi il controllo sul dizionario non l'abbiamo ancora fatto ok quindi anche se io qua cercassi o e j lui la trova l'importante che siano lettere adiacenti il controllo sul dizionario lo aggiungiamo adesso però sembra funzionare quindi fatto questo passo si dimmi il vostro compagno dice quando facciamo reset rimangono i bottoni colorati quindi puliamo l'interfaccia grafica anche quando facciamo reset quindi mi copio quel ciclo for e lo incollo anche qui prima del reset ok allora adesso fatto questo è molto facile risolvere il problema nel senso che torniamo un attimo nel nostro modello noi possiamo avere un metodo pubblico che ci ritorni tutte le parole che sono contenute nella matrice che è proprio quello che volevamo fare all'inizio string trova tutte e lo ripetiamo abbiamo un passo ricorsivo scusate un passo iterativo in cui scorriamo tutte le parole nel dizionario e poi per ogni parola richiamiamo la ricorsione che abbiamo appena fatto allora innanzitutto definiamoci una lista di string nel nostro risultato new array list poi dove recuperiamo tutte le parole dal DAO quindi ci servirà anche un DAO se non è stato già creato si c'è già no ce lo creiamo ogni volta mi copio un attimo questa riga qui quindi mi crea un riferimento ad un DAO e poi da questo DAO recupero tutte le parole DAO punto saranno delle stringhe string parola in DAO punto get list list parola ok recuperiamo tutte le parole presenti nel dizionario e per ognuna di esse usiamo il metodo che abbiamo che abbiamo fatto prima quindi if di ricerca ci serve no possiamo invocare trova parola if di spunto trova parola parola ok qui lanciamo la ricorsione se la ricorsione ci ritorna vero aggiungiamo la nostra parola alla lista result diciamo così non era un booleano ma una lista di posizioni il booleano era il metodo ricorsivo vero e proprio quello nella classe ricerca quindi se trova parola ci ritorna un qualcosa una lista di posizioni che è diverso da nullo va bene ci prendiamo la parola e la aggiungiamo al risultato e poi questo risultato lo ritorniamo return result e a questo punto poi dal controller dal bottone risolvi richiamiamo questo metodo quindi avremo una lista di stringhe tutte uguale dis.model punto trova tutte e poi queste parole le possiamo stampare nell'area di testo quindi bo for string s in tutte txt result punto append text la parola più uno slash n magari prima di stampare le parole stampiamo anche quante ne abbiamo trovate quindi txt result punto append text ho trovato più tutte punto length ops ah scusate ho trovato più tutte punto size sì più parole e ogni volta che clicchiamo il bottone ripuliamo anche l'area di testo vediamo un po' se funziona ok data questa matrice risolviamo tutto e lui ha trovato zero parole come mai strano c'è qualcosa che non va perché secondo me almeno una parola dovrebbe trovarla proviamo a mettere un break point se qualcuno ha già visto l'errore ok allora andiamo avanti passo passo ste povere F6 direi che non trova forse c'è un problema di accesso al strano perché dovrebbe a qualcuno è venuto vediamo un attimo se rientra qui allora dunque facciamo così riproviamo altrimenti lo sistemo reset risolvi tutto qui si ferma qui la parola è a e va bene a a sì le parole le recupera dal dal dizionario il trova parola però sembrava funzionare perché l'abbiamo provato prima andiamo in ricerca trova parola ritorna nullo se non lo ritrova vabbè strano lo controllo poi lo lo sistemo perché abbiamo visto che il metodo trova parola funzionava l'abbiamo usato prima o siamo proprio sfortunati con quelle matrici di lettere però il il procedimento mi sembra mi sembra sia chiaro allora il problema è che le parole nel dizionario sono in minuscolo le lettere nella board sono in maiuscolo e quindi ovviamente poi quando cerchiamo non funziona quindi la soluzione più facile è quella di ad esempio trasformare tutto in maiuscolo la parola da ricercare prima di di cercarla quindi qui and risolvi il modello sì qui dico parola appunto to uppercase ok prima di cercarla la trasformo in maiuscolo e quindi vediamo se siamo fortunati sì ho trovato 105 parole ok questo era il problema va bene ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.